Buonasera a tutti o meglio buongiorno perché quest'oggi ci ritroviamo ancora una volta in esterna perché siamo venuti a seguire una storia che invece verrà venuta in studio a raccontarci proprio Gigi Malamarba che è qui con noi, la storia di Rimaflo, una storia bellissima Gigi che ci è piaciuta così tanto che siamo voluti venire a trovarvi. Questo è un grande piacere per noi e per tutti quelli che potranno vedere questa trasmissione perché è una sperimentazione quella che stiamo facendo, un tentativo da parte di chi era stato licenziato da una fabbrica di costruirsi un futuro, un progetto di vita ricostruendo la fabbrica. Infatti quella che era morta con la chiusura è rinata qui dentro. Per ricordare nelle puntate precedenti come dicono quelli bravi cosa è successo? Una decina anni fa, 2012 più o meno? 2012 si è stata la chiusura di Mafflo. Mafflo un'azienda che lavorava nel comparto dell'automotive chiude. Chiude ma chiude non perché i lavoratori non fossero bravi o perché c'era una crisi. L'azienda le chiude perché, si sa, le produzioni si spostano, quasi siamo ormai abituati a queste cose. Beh, chi ci lavorava dentro ha detto no, non siamo d'accordo. E quindi occupate questa fabbrica, ma la occupate proprio per dire no, la occupiamo per creare occupazione, nel senso che create dei posti di lavoro proprio a un certo punto. Quindi smantellate quello che era, diciamo, all'originaria produzione della Mafflo e vi mettete a fare altro fino a poi convincere il territorio. A me questa prima parte della vostra storia piace molto perché avete convinto il territorio, convinto anche la prefettura, anche la proprietà stessa che vi ha riconosciuto comunque di aver fatto un ottimo lavoro anche di mantenimento della struttura che vi siete ritrovati a dover gestire tanto che vi danno un'altra struttura qua, qualche metro più avanti diciamo. Sì, nell'accordo diciamo che è stato dopo un conflitto importante perché sei anni e mezzo di occupazione, ritenuto illegale anche se noi volevamo un contratto da subito, è stato duro e abbiamo pagato anche dei prezzi non indifferenti. Però grazie appunto alla mediazione della prefettura di Milano siamo riusciti ad avere un accordo con la proprietà e quindi dei due stabilimenti che facevano parte originariamente fino a vent'anni fa della stessa società, abbiamo scelto quello in migliori condizioni che è questo qua. Naturalmente c'è l'onera dell'acquisto di questo nuovo stabilimento che però è emerso proprio esattamente da rapporti con il territorio, dal fatto che abbiamo trovato un sacco di persone e di enti che ci vogliono bene a partire da due fondamentali che voglio citare che sono la Caritas di Ocesana e anche il contributo della Fondazione Vismara insieme a tante associazioni appunto del territorio, all'associazione Scicomendes per esempio, che fanno parte del consorzio che gestisce insieme alla cooperativa Rimaflo, cioè a noi, tutto questo sito che è una bella realtà oggi. Questo sito che è proprio adesso, quindi Gigi, tu ci devi far conoscere. Questo è l'ingresso e qui dentro si entra nel grande mondo della Rimaflo. Eh sì, queste sono le molteplici attività che sono nate nel corso di questi anni. Una parte è più direttamente figlia della storia, con una piccola attività di produzione che facciamo conto terzi, altre sono nuove attività molto legate al settore al filone alimentare, che potremo vedere nel dettaglio. Ma ormai più di i vecchi lavoratori della Rimaflo sono quelli che sono entrati successivamente. Sono il numero più grande e sono le tante botteghe artigiane. E allora Gigi, finalmente entriamo. Siamo dentro al Rimaflo. Tanti scaffali, tanti scatoloni. Dove stiamo entrando qua? Eh beh, questa è la parte magazzino e anche il confezionamento dei prodotti che sono un po' l'eccellenza della nostra produzione. Infatti questo è il regno di Luca, di Massimo e vediamo le bottiglie che sono esattamente il cuore di questa produzione. E allora, buongiorno Luca. Valentina, prima ti chiedo di venire subito qua, perché già solo i nomi io impazzisco. Allora, abbiamo, insorgiamo la Sambuco Peraia, con lontai, la vodka antisessista, poi il rimoncello di classe e l'amaro partigiano. Prima di tutto, voto 10 lode con bacio accademico al marketing, complimenti Luca, non so che gli ho deciso, ma veramente fantastici. Ma soprattutto ogni bottiglia ha una storia bellissima dietro. Sì, diciamo, grazie innanzitutto e buonasera, buongiorno ai videospruttatori. Sì, sono storie particolari e il marketing, tu dicevi, chiedendoci il marketing, è un marketing collettivo, diciamo. Sono tutte produzioni che vengono da incontri, con realtà, con cui condividiamo i percorsi, storie, valori, affinità. Ad esempio la Sambuca del Sogiamo è fatta... Ecco, la Sambuca Operaia. Perché si chiama Sambuca Operaia? Perché è fatta assieme ai laboratori e alle lavoratrici del collettivo di fabbrica della GKN di Campi Gisenzio. Che ha una storia un po' simile alla vostra, giusto? C'è l'occupazione anche lì, c'è la voglia di riprendersi in mano al proprio... C'è un padrone che ha chiuso e vuole, diciamo, distruggere una storia industriale che comunque da anni ha un suo perché a Campi Gisenzio. I vostri cugini di Campi Gisenzio. Ci sentiamo molto affini a loro e pur, diciamo, essendo partiti, per così dire, prima, ci sentiamo anche molto ispirati da loro e per noi sono anche un esempio per come stanno portando avanti la loro battaglia. E proprio per questo abbiamo deciso di proporgli di collaborare a una coproduzione, appunto la Sambuca. Perché per noi è importante nel nostro percorso di autogestione produrre e quindi entrare dentro dei meccanismi economici, produrre merci, veicolare, commercializzare merci, assieme a delle realtà che, diciamo, ci illuminino un po' questo percorso, questo cammino. E quindi un'avvertenza, una lotta operaia di oggi, diciamo, per noi è importante intercettarla perché noi veniamo da un'avvertenza operaia. E ci permette di restare nel nostro solco, nel solco che, diciamo, quando abbiamo occupato la fabbrica abbiamo deciso di provare a sviluppare nuove forme di lavoro in autogestione, per riprenderci quello che il padrone ci aveva portato via, delocalizzando in Polonia, ad esempio nel nostro caso, portavamo avanti quello che era la classica avvertenza per il lavoro, però con un passo in più, ovvero quello dell'occupazione della fabbrica e del lavoro in autogestione. Non solo, non ci siamo fermati semplicemente a rivendicare un lavoro, cosa legittima, però di fronte all'ennesimo fallimento delle istituzioni, del padrone, l'unica cosa che c'era rimasta era o andare a casa o provare a occupare. Occupare fa partire un'attività lavorativa. Questo lavoro in autogestione però, muovendosi all'interno di un mercato, rischia anche un po' di trasformarci. E allora è necessario per noi attaccare alla nostra attività economica delle battaglie di più ampio respiro che servono appunto, come diceva, a illuminare il nostro cammino, a ispirarci. E quindi la Sambuca per le lotte per il lavoro, la Vodka con Lontine per finanziare e parlare di tematiche LGBTQ, di tematiche legate al femminismo, alle oppressioni di genere, che è una tematica molto forte in Italia, in una società patriarcale come la nostra, e grazie alla Vodka siamo entrati in contatto innanzitutto con il collettivo Conlontine, ma nell'ultimo periodo con i collettivi femministi russi che si oppongono, che si oppongono anche alla guerra, che però svolgono un'azione da anni contro le politiche omofobe e fascistoidi di Putin. E quindi con la Vodka finanziamo appunto questi collettivi e cerchiamo di instaurare una relazione sociale e politica con loro per creare... Massimo, come dire, combattere il nemico con le proprie armi, perché non si aspetterebbe mai Putin che lo battete con la Vodka, invece voi con la Vodka cercate di combattere. Cerchiamo di costruire relazioni, una rete sociale che dica no alla guerra e mi permetto, queste produzioni, ma tutto il progetto di Rimaffoli, indipendentemente da quello che si possa pensare sulla guerra oggi, sugli schieramenti della parte, vanno verso la costruzione di un'economia di pace, destinare le nostre risorse, le nostre energie a creare integrazione. Ieri Moncello lo facciamo con i limoni di S.O.S. Rosarno, l'antirazzismo. Ieri eravamo a un presidio di fronte alla prefettura di Milano perché ieri ripartiva il processo in appello a Mimmo Lucano, ha arrestato per il reato di solidarietà, per avere creato delle opportunità di lavoro in autogestione per dei migranti che altrimenti sarebbero finito in qualche lager di Stato o in mano alla criminalità. Lui ha creato dei meccanismi, anche lì è un'altra fonte di ispirazione per noi, perché economie basate sulla solidarietà, sul mettersi insieme per rispondere ai nostri bisogni, mettersi insieme per veicolare anche dei messaggi. E infine il piccolino lì, l'amaro partigiano, quello forse che vi ha fatto più conoscere anche sul mercato, perché è stato interessante anche perché appunto da poco, ma sono il 25 aprile, abbiamo visto, eravate anche al museo Cervi dove avete presentato il prodotto, perché quello è un prodotto che tiene viva la memoria, nonostante magari dopo 3-4 bicchieri fai fatica a ricordare che mi ti chiami, ma una certa memoria la tiene viva, giusto? Certamente, è l'unico amaro che si beve per non dimenticare. E' un amaro fatto in coproduzione con il collettivo Archivi della Resistenza che a Fosdinova, in provincia di Massa Carrara, gestisce il museo audiovisivo della Resistenza e fa un lavoro attivo sulla memoria antifascista. E quindi per noi è importante, perché tutte queste tematiche sono legate, non ci può essere una fabbrica in autogestione, una vera fabbrica in autogestione se non si affronta il tema dell'antirazzismo, dell'antisessismo e dell'antifascismo, perché sono condizioni sine qua non di un percorso di autogestione. Noi ovviamente abbiamo una gestione assembleare del progetto, ma rischiamo di portare all'interno del progetto anche tutta una serie di dinamiche sociali che, diciamo, abbiamo introiettato, perché non è che questa fabbrica sia sulla Luna o viva all'interno di un contesto sociale, che noi siamo portati a riprodurre certe impostazioni nel linguaggio, nei comportamenti. La sfida anche giornaliera per voi. Esatto, di costruire l'alternativa, costruire quotidianamente l'alternativa e allora l'antifascismo lo costruiamo a partire da una pratica, la produzione di un prodotto che è una merce, è vero, ma allo stesso tempo anche uno strumento, un veicolo per parlare di antifascismo oggi, per incontrarci tra antifascisti e antifascisti, per parlare dei partigiani, delle partigiane, delle staffette, per capire cosa è successo, per evitare che si riproduca di nuovo. E quindi, ecco, è vero che, diciamo, parliamo di una storia di 70 anni fa, ma è vero che questa storia oggi più che mai è attuale e oggi più che mai è necessario rivendicare le radici antifasciste della Costituzione nostra, che guarda caso il primo articolo parla di lavoro e nei primi dieci articoli parla di lavoro, di dignità, di solidarietà. Eccoli qua. Eccoli qua. Questo, appunto, è il giusto, la giusta anteprima, la premiera che possiamo darvi di quello che uscite qua dentro, perché poi, dai prodotti, perché non è che si ubriaccano e basta, non è che si mettono, anzi, poi si mettono anche a lavorare e tanto, perché poi ci sono tantissimi. Al di là, dall'altra parte di questo bellissimo capannone, ci sono invece, diciamo, una sorta di co-working dei mestieri, l'ho chiamato così, no? Cittadella degli artigiani. Cittadella degli artigiani. Quindi adesso io vi raggiungo subito Gigi, che è là, che mi sta aspettando, e quindi andiamo a vedere, appunto, la cittadella degli artigiani. Grazie mille, grazie mille. Buon lavoro. Grazie. Allora, adesso siamo entrati, appunto, all'interno della vostra struttura. Abbiamo già visto altre attività che fate qui dentro, ma fate anche un altro tipo di attività. Qui vedo tanti scatoloni, pacchi. Dove siamo? Beh, per noi è una cosa molto importante che è avvenuta nei mesi scorsi, e cioè coloro che hanno sempre collaborato al nostro progetto, tanto è vero che fanno parte fin dall'inizio del consorzio, almeno 331, che gestisce questo sito dove c'è la cooperativa Rimaflo, appunto, è la cooperativa Scicomendes. Stiamo parlando delle botteghe del commercio ecosolidale di Milano e non solo. Ecco, perché è una cosa molto importante? Perché oltre all'adesione al progetto c'è una partecipazione concreta portando il magazzino, no? Di le botteghe del commercio ecosolidale all'interno del sito dove c'è Rimaflo. Questi scatoloni sono esattamente il loro magazzino. E allora qui c'è con noi Roberto, Roberto della cooperativa Scicomendes, appunto. Allora, questi sono tutti quei prodotti che noi poi ritroviamo nelle varie botteghe. Esatto, qua c'è il, diciamo, il magazzino centrale, il fulcro della logistica della cooperativa Scicomendes, che gestisce otto botteghe a Milano e cinque a Brescia. E quindi diciamo che molti prodotti partono da qui e vengono poi diramati nelle varie destinazioni. Qua arrivano anche gli ordini online e vengono consegnati o tramite corriere o tramite i nostri colleghi col furgone. Quindi, diciamo, è una parte molto importante di tutto il lavoro della Scicomendes. Mi stai dicendo che se vado sul sito di Scicomendes, faccio l'ordine, la faccia dall'altra parte sei tu quello che vedi. Potrei essere io, sì. No, cavolo, che bello. Potrei essere anch'io perché, appunto... Questo Amazon non ve lo fa vedere. No, a volte fa vedere delle facce che poi non arrivano mai, arrivano altre facce. No, invece... Voglio bene Amazon, no, prima che poi dopo si capisse che usiamo i loro server. No, usiamo i loro server per fare streaming, non vorrei che... Certo, certo. Se salta lo streaming sapete che è successo. E da poco tempo ci siamo trasferiti qua, appunto, con Rimaflo. Ci hanno ospitato per tutte le varie faccende di Covid e quant'altro, tagli di costi, eccetera. Abbiamo dovuto spostare il nostro magazzino e siamo venuti qua. Questa cosa che questi di Rimaflo hanno occupato perché si avevano chiuso la fabbrica, avevano i loro problemi economici e tutto, e si mettono ad aiutare pure gli altri. Cioè, ma com'è questa storia? Eh, ma perché sono grandi, sono avanti, sono proprio la nuova economia sociale che si sta diffondendo. Altro che l'economia circolare. Infatti, infatti. Economia sociale, tu dici giustamente. Secondo me sì, perché comunque si vede che cerchiamo tutti di rimanere nella sua direzione, di fare un'economia sostenibile, di darci una mano l'un con l'altro, anche perché oggi io do la mano a te, domani tu la dai a me, e tutti insieme si cresce in maniera efficace e produttiva. Mi stai dicendo che alla fine della fiera vieni anche a lavoro contento tu. Sì, abbastanza direi. Avete fatto veramente il vero miracolo italiano. Dobbiamo dire la verità, noi siamo anche beneficiari assolutamente dalla presenza di Shiko Mendez all'interno di questo. Citiamo Garabombo, no? Garabombo è una fiera che c'è da tantissimi anni sotto Natale e il fatto di aver ospitato i prodotti di rimafio di fuori mercato dentro lì per noi è stato un grande vantaggio, quindi è una sinergia più che un'ospitalità. Addirittura dal 1997, la prima edizione di Garabombo risale al 1997 e salvo l'anno scorso l'abbiamo fatta da tutti gli anni. Insomma, quindi abbiamo appuntamento a dicembre su quel di Pagano. Prima, di solito cominciamo sempre i primi novembre. Ah, ok, quindi sul piazzale di Pagano, quando vedete la testa struttura a costruirsi, è il momento di andare alla Ciclo Mendez e soprattutto di prendere quelli che avete visto prima, no? La Marro Partigiano, la Sambuca, insomma. Andiamo avanti però, Gigi, perché c'è tanto altro da vedere. Grazie Roberto. Grazie a voi. E grazie e complimenti. Andiamo avanti, andiamo. E allora, ecco Gigi, ti ritrovo qui nel secondo stabilimento, nel secondo capannone del Rimaflo, dove c'è il villaggio degli artigiani, dove c'è queste bellissime realtà artigiane che condividono questo spazio, giusto? Come è andata questa idea? Ma l'idea è dal fatto che quando abbiamo occupato, oltre a noi, si sono presentate anche delle persone che avevano una loro professionalità, una loro bottega artigiana che magari non avevano più i soldi neanche per mantenerla, perché era il periodo grosso di crisi, e quindi in questo luogo hanno trovato la possibilità di sviluppare la propria attività, come quella ad esempio di Dario. Allora, scusiamo. È permesso? Buongiorno. Buongiorno, allora Valentina, seguimi. Quindi, Valentina, prego, noi qui siamo in una bottega, credo, di impagliatori. Sì, incannatori. Incannatori. Guarda che bel lavoro che stanno facendo, stanno rifacendo tutta questa sedia, e ho il piacere di parlare con... Io sono Dario, lui è mio figlio Matteo. E lui è tuo figlio, quindi insomma, quando si dice la bottega di famiglia, proprio questa è quella, no? Assolutamente, sì, generazionale, una dinastia, ha cominciato mio nonno nel 49, e poi c'è stata una successione di padre in figlio, di padre in figlio. Tu nonno nel 49 però non sapeva che tu saresti finito a lavorare dentro la rimaflo. Assolutamente, assolutamente. Non lo sapeva di sicuro. Com'è stare qui e che cosa porta in più per il tuo lavoro? Ma innanzitutto un insieme di competenze, perché la possibilità di potersi interfacciare con tutto un insieme di artigiani fa sì che possiamo interfacciarci e ognuno di noi può acquisire competenze sempre superiori. E quindi il vantaggio dello stare insieme è proprio questo, perché non siamo semplicemente un insieme di artigiani, siamo una vera e propria comunità di artigiani. Quindi ogni qualvolta uno ha un problema, ad esempio, può rivolgersi, che ne so, al falegname piuttosto che al tappeziere, piuttosto che al fabbro e potersi interfacciare in maniera tale da creare sinergie che ci consentono di migliorare il nostro lavoro. Quindi insomma, anche uno scambio di conoscenze, di pratiche, di imparare cose in più. Ma io invece sono curioso, posso domandare, allora prego madre, passa proprio di là ce la fai? Vediamo, ok, perfetto. Allora io sono molto curioso invece di sapere, tu quanti anni hai? 18. 18 anni e stai imparando un mestiere che insomma è un mestiere antico però. Sì, sì, è bello. Che cosa ti affascina? E beh, hai detto lui, non l'ho chiesto io se gli piace o no, ho detto è bello. Che cosa ti affascina di questo mestiere? Non lo so, come la cosa finale, cioè mi piace proprio farlo, cioè non so dirti bene. I tuoi amici cosa dicono quando gli dici che ti metti a mettere la paglia sulle sedie? Niente, dicono che se mi piace è giusto. Rimangono stupiti? Un po' sì, un po' sì perché non è un lavoro comunque comune diciamo, è molto... Non lo so, è molto antico comunque, non c'è tanta gente che lo fa adesso. E soprattutto è un lavoro che insomma lo devi fare con le mani, no? Nel senso quindi facendo ti magari anche male ogni tanto, magari qualche scheggia o cose del genere, però nonostante appunto, cioè cosa significa per te creare proprio con le tue mani qualcosa fuori di tangibile, insomma non stai lavorando in una software house, non stai lavorando in un social media manager, ma stai creando appunto delle sedie in questo caso, no? Sì, sì, non so dirti, mi piace, cioè è una bella cosa secondo me, proprio mi appaga. Ho voluto vedere anche tipo quando la riporti al cliente, vederlo contento di come è venuto il lavoro, è molto appagante questa cosa. Bene, bene. Allora poi chiederemo a Pasquale, la sedia di Pasquale c'è scritto qua, chiederemo a Pasquale se è contento del lavoro di? Matteo. Matteo, grazie mille Matteo, vale piano mi raccomando che se no tu ti fai male, ok sono sempre preoccupata. Grazie mille davvero per averci aperto le porte della vostra bottega e complimenti per il lavoro che stai facendo, sia sulla sedia che sul figlio. Grazie mille. Immagino che abbiamo qui un prossimo generazione già pronta. Speriamo, quello che gli dico sempre è che quello che io faccio lui lo può fare meglio, quindi insomma quale miglior insegnamento. Grazie mille davvero. Gigi, andiamo avanti, dove ci porti adesso? Adesso passiamo da Mauro, passiamo a una parte di creatività di altro tipo, utilizzando materiali esclusivamente recuperati, vero Mauro? Mauro! Solo riciclo, buongiorno. Solo riciclo. Solo riciclo. Tu quando vedi un sacco della pattumiera per te è oro. Sì esatto, anche perché molte volte faccio proprio che vado, ma però con il riciclo si possono fare cose simili. Ma scusa, quelli sono degli occhiali? Sì. Che tu stai toccando e solo toccando li accendi e spegni la luce. Ma qualsiasi cosa che si tocca, basta toccare il metallo e funziona. Qual è un cannello da... Qual è un cannello da... Qualsiasi cosa... Ma questa è il meno delle cose che faccio. Io sono già facciato così. Io amo follemente gli occhiali perché faccio volontariato e posso fare delle sculture. Ma poi, vabbè, adesso sto facendo st'affare qua con gli scarti del ragazzo che fa le vetrofanie. Ah! Quindi queste sono carte adesive. Taglio a triangoli e faccio questa roba qua. Il mio amore folle sono i cd però. I cd? E cosa fai con i cd? Con i cd faccio un mosaico, per esempio. Mi ha raccontato anche che hai fatto una cosa gigantesca. Faccio una croce... Sì, qua si vedrà, si vede male. Però è una croce, praticamente, da tre metri per due metri e mezzo. Ah, qua, si vede quella qua. Eci mentina, si vede qualcosa, sì. Tre metri per due metri e mezzo. E quando il prete, che io non ho molta confidenza con i preti, la vista, la vista è diventato matto. Ha detto, io questa qui non la sposto più da qua, rimane nel mio ufficio, la sposto più. Perché era veramente, veramente bella. Quella che aveva sognato, aveva detto. Ha detto, io l'ho sognata proprio così uguale. E questo è il tuo angolo, il tuo angolo di paradiso, no? Il mio casino, sì, il mio angolo. Poi c'è, vabbè, se spiego tutto, non andremo più a casa. No, anzi, scusate, diciamo che devo venire a trovarti per capire le cose. Esatto. Venite a trovarmi perché se no non riusciamo a capire come le faccio, eccetera, eccetera. Poi ci vuole tempo per spiegarle, no? Questo tessuto, per esempio, che io giustamente vado a recuperare, abbiamo trovato il sistema con una ragazza che c'è di sopra che fa le borse. Però io che la faccio? Faccio opere d'arte che sono quelle. Cioè io brucio il tessuto e diventa una roba del genere. Insomma, e anche qui Gigi ritorna, l'ha appena detto, grazie a una ragazza che di sopra fa un'altra cosa, ritorna proprio, altro che co-work, proprio questa tempesta di cervelli e di mestieri qui dentro. No, noi lavoriamo molto in concomitanza con altri, altri evidenti. Per esempio, se adesso devo fare queste lampade qua, per forza di cose, quando le fa le gnamini, dico fammi un buco, tagliamola, eccetera. Questo posto è bello proprio per quello, perché noi siamo tutti uniti. Beh, allora, ogni volta è lo spot migliore che hai con questo posto, Gigi, davvero. Cioè, questo bello di qua è stare insieme. Ah sì? Ma la comunità è la parola giusta, e peraltro noi siamo una cooperativa di comunità, e quindi ovviamente... E allora, andiamo avanti. Hai parlato dei falegnami? Grazie Mauro. Ciao, ciao. Hai parlato dei falegnami, si sente già il rumore sotto. I falegnami sono rumorosi e polverosi, ma noi adesso li andiamo a incontrare. Infatti c'è un muro che separa dagli altri, esattamente per contenere la polvere e il rumore. Ed ecco qua, allora. Vediamo pure, gira di qua, così noi facciamo vedere. Insomma, falegnami anche con macchinari di un certo livello. Io spero si senta. Buongiorno. Buongiorno. Non la distrarla. No, no, aspetti. Non vorrei che fai... Insomma. Non voglio distrarla, prima che ci lasciate un dito o qualcosa, non vorrei. Eh, fai, fai. No, insomma, è un po' di distrarla. Cosa sta facendo di bello? Stiamo facendo delle tavole per fare un tavolo. Un tavolo state facendo? Cioè, scusi, no, vorrei capire. Da questo legno mi esce fuori quella roba lì? Aspetti, aspetti, aspetti. Da questo legno viene fuori la struttura. Mi esce a spegnere un secondo, grazie. So che sono rompiscatole, però sono curioso... Aspetti, metto. Allora, diceva, questo è un pezzo di legno antico che abbiamo recuperato in una cascina del Settecento, mi sembra, e dobbiamo fare un tavolo per la nostra collega. Ok. E me l'ha chiesto di questo materiale, perché è un rovere, e adesso da questo qua tagliamo delle tavole, lo mettiamo insieme e facciamo piano, esatto. Anche qui il nostro collega che sta qui dentro la rimaflo? Sì, è la nostra amministratrice, la Elena. Elena. Elena, sì. Non so se l'avete già vista. E qui, ma anche qui si crea una piccola economia. Sì, certo, l'economia è una economia circolare, nel senso che lei mi fa 7,40 e io gli faccio pietà. Vabbè, insomma. No, vabbè, ci mancherebbe altro. Diciamo che siamo tutti disponibili, cioè noi siamo interdisponibili, si dice, non lo so, c'è questo patto di mutua solidarietà, tra virgolette, di mutuo soccorso, per cui non ha bisogno. È ovvio che poi magari, voglio dire, le spese in qualche modo non le copre, insomma. Non è che... Chiarissimo. Beh, allora io la rilascio al suo lavoro. Grazie. È ben preso, quindi lasciamo i suoi rumori, i suoi polveri. Ma insomma, è sempre affascinante vedere la falegnameria, devo dire. Certo, anche per me, a me è 40 anni passanti che lo facciamo. Ecco. Adesso siamo artigiani in pensione, siamo qua come volontari, e ci divertiamo a socializzare. Come si dice. Complimenti allora per il lavoro, continuiamo, andiamo avanti. Qui, diciamo, appunto, il magazzino della falegnameria, e fra poco andiamo in un'altra area, sempre qui dove ci sono altri tipi di lavorazioni, giusto? Sì. Abbiamo la parte di carpenteria metallica, che sarebbe il fabbro, e poi ci sono le botteghe delle artigiane, e quindi tutta la parte della sartoria, ad esempio. E c'è davvero di tutto, appunto, qui alla rimaflo, qui abbiamo visto anche proprio... Sono dell'area di carpenteria metallica, giusto? Sì, abbiamo cercato di dividere in aree che non si, diciamo, sovrappongano, per cui chi fa la polvere non deve stare assieme a chi fa altre lavorazioni, come ad esempio... Qua c'è un corniciaio, ad esempio, la sartoria. Valentina, qui fa cornici, giusto? È un artigiano che fa cornici, quindi sempre nell'ambito del legno. Qua abbiamo un altro... Siamo sempre parlando di restauro mobili, o di creazione di nuovi mobili, partendo da materiali vecchi, e poi con illustrazioni anche molto significative, che stanno un po' nell'onda di questo luogo. Però le botteghe sono veramente tante e spaziano anche in direzioni diverse, ad esempio la creazione di installazioni per teatri o per le aziende che chiedono di fare degli allestimenti particolari. e quindi questa cosa ha delle andamenti di carattere stagionale, dipende anche naturalmente dalle richieste. Per arrivare poi a un lavoro più propriamente legato alla storia di Rimaplo, che è quella dell'attività di montaggio e di piccola saldatura di apparecchiature elettriche e elettroniche. E' questo che viene gestito qua dagli ex lavoratori della Mafflo e con una direzione dei lavori di una persona importante, che è Maria Rosa, che è proprio nella gestione dei rapporti con la società per cui si lavora appunto con Toterzi. E quindi qui siamo in quello che è un po' più, forse è legato ancora a quello che eravate, no? C'è proprio l'ultimo barlume di Mafflo un pochino, no? Quindi l'assemblaggio di pezzi con due ex dipendenti appunto della... Prego, prego, state qua con due... Ah, devi andare di qua, scusami, ecco. Allora, mi metto qui in mezzo con due ex dipendenti della Mafflo, giusto? Chi sono? Maria Rosa. Maria Rosa e? Pietro. Pietro. Maria Rosa, cosa state facendo in questo momento? Noi lavoriamo per un'azienda a conto terzi e facciamo assemblaggio. Sono tutti passacavi per scrivanie. Ah. Tra i passacavi dei fili di computer. Facciamo assemblaggio, costruiamo le scatolette. Le ciabatte elettriche, ho visto che ci sono una costruzione. Tu, ci vuoi che vi faccio vedere qualcosa? Sì, prego, vai, fammi vedere. E dicevo, voi la storia, Pietro, la storia qui la state seguendo fin dall'inizio? Eh sì. Sì, certo, eh beh, cos'è che vuoi sapere? Dimmi. D'accordoci un po', com'è stato questi anni tra l'occupazione, la chiusura? Tristemente noti? Tanta lotta. Eh, adesso siamo sempre in lotta noi. Ah. Sempre, perché non è che guardiamo solo la nostra lotta, perché noi poi guardiamo anche le lotte degli altri, tipo la JKN di Firenze che noi seguiamo, con cui collaboriamo, che facciamo una sambuca operaia e tutto, perché anche quello fa parte del nostro lavoro. Guadagniamo poco, però è tutto nostro. Questa è molto interessante, di guadagnare poco ma è tutto nostro. Cioè, a questo punto dice, meglio pochi, pochi maledetti ma miei, in un certo senso. Non è che col mio lavoro devo mantenere una persona che è già ricca, magari, capito? Quindi quello che facciamo è tutto nostro. E soprattutto è molto interessante questa comunque visione anche verso le altre lotte, verso i cugini di Capoglisenza. Sì, è un altro progetto che stiamo portando avanti con loro, sono qua da noi. Anche quello è per il recupero dei detenuti, sono qua a lavorare da noi. Ce ne sono tante di cose da dire e da fare. Eh beh, infatti Gigi ci sta portando a vederle tutte. Facci vedere un po' invece, ma cosa? Ah, vedi? Prego, prego, vieni qua, vieni qua. La base a plastici ci dà tutti i raccordi, noi li assembliamo insieme e questi vanno all'interno della scrivania, in modo che gli altri possono attaccare le prese. E questi hanno i loro coperchietti, apri e chiudi. E voi assemblate questi oggetti. Beh, complimenti, allora, davvero, com'è adesso la storia qua? Com'è stato questi vent'anni ormai? Ora sono vent'anni, eh? Eh, vent'anni no, ma quasi, insomma. Eh, sono stati duri, però, vabbè, comunque è stato bello. Cioè, è completamente diverso che lavorare in una fabbrica. Insomma, la fabbrica ti prendi il cartellino, prendi, te ne vai. Mi stai dicendo che anche tu, alla fine, vieni al lavoro contento la mattina? Sì, diciamo sì. Sì, perché lavoro, cioè, per me stessa, per noi, c'è tutto un altro lavoro che lavorare comunque in fabbrica. Chiarissimo. Bene, allora, continuiamo il nostro giro. Adesso mi sono perso Gigi, adesso dobbiamo cercarlo. Chissà dov'è, chissà quali altre realtà pazzesche mi sta facendo... Stiamo per andare a conoscere. Niente, io ho girato un po' ovunque nella rimafrona, ma non ho perso, mi sono perso Gigi. Ma in frattempo, invece, ho trovato... Enzo. Enzo, tu sei il primo che vengo seduto a una schivania, e quindi qua è il primo che non lavora, e invece no. No, invece lavoro e lavoro per Mitiga. Mitiga che cos'è? Mitiga è un'impresa sociale nata da detenuti, io sono una persona in regime di articolo 21. D'articolo 21 significa? Ciò vuol dire che io esco alle sei e mezza dall'istituto, dal carcere di Bollate per venire qui a lavorare, e rientro alle 18.30. Quindi sono a tutti gli effetti un detenuto. Ok, chi lavora qui per questo progetto Mitiga? Che cos'è questo progetto? Ecco, Mitiga è un'impresa sociale, un'impresa sociale che si dedica a creare possibilità di inserimento lavorativo per altre persone detenute, fondamentalmente. È un puro esempio di autoimprenditorialità che parte dal basso, siamo un gruppo di persone detenute che, come dire, ha deciso di attivarsi in modo fattivo per creare il proprio riscatto sociale. Mi viene a dire che ci sono due elementi che forse non sono un caso. Uno, carcere di Bollate, sappiamo un'eccellenza in Italia. Due, rimaflo però. Esattamente, sì. Qui il caso non c'entra niente. Bollate, io prima di essere trasferito nel carcere di Bollate ero detenuto nel carcere di Pavia. In funzione anche del mio percorso trattamentale, quindi del mio comportamento e di quelle che sono le mie attitudini, sono stato trasferito a Bollate proprio per poter capitalizzare quelle che sono le mie attitudini. Lì ho trovato persone, come dire, molto in linea con il mio pensiero e con la mia attitudine comportamentale che segue una certa linea di comportamento e lì ho avuto il piacere e la fortuna anche di incontrare Emilio Roncoroni e che, come dire, ha sposato il progetto Mitiga e ci ha permesso di creare la prima sede qui all'interno di Rimaflo. Rimaflo, come tu ben sai, è una realtà che promuove un aspetto sociale che si rifà alla dignità del lavoro ed è in linea con quello che è il riconoscimento della dignità umana rispetto al valore delle persone che, anche se hanno sbagliato, restano umani, esseri umani con un capitale umano che va valorizzato e Mitiga cerca di fare questo. Cosa stai facendo in questi giorni? Non c'è un po' mai su che progetti stai lavorando? Io sono molto curioso di sapere tutti i vari progetti che avete in ballo di Mitiga. Su tutti ci stiamo concentrando per creare appunto uno staff fatto di detenuti che si adoperino in attività di scouting, quindi di mediare quella che è la domanda offerta del mercato del lavoro. Abbiamo profilato una serie di profili lavorativi di persone detenute e ci stiamo rapportando con le imprese per proporle e contestualmente cerchiamo lavorazioni dalle imprese da poter portare all'interno del carcere. Quindi è interessante perché non siete appunto solo a portare fuori i lavoratori che possono appunto uscire dal carcere e quindi poter andare a lavorare per le imprese ma anche con le lavorazioni che invece possono entrare all'interno del carcere. Chiaro perché non tutte le persone sono negli stessi termini giuridici per poter accedere a misure alternative o meno coercitive come quella del regime dell'articolo 21 ma bisogna tener conto anche di chi purtroppo deve permanere ancora in carcere e deve comunque poter lavorare. Enzo, io ti ringrazio tantissimo, sono contento quasi di essermi perso all'interno di Rimaflo e di averti trovato, devo però andare a cercare ancora Gigi che non so dove sia, lo vado a cercare. Ok, perfetto, è stato un piacere, saluto tutti. Ciao. Grazie, andiamo. Girando tra gli uffici qui al piano di sopra, sempre qui al Rimaflo si scoprono appunto le storie di Enzo ma anche la storia di Samia. Samia, qui siamo in una sartoria mi sembra di essere, no giusto? È un laboratorio, in realtà l'attività maggiore qua è il design, è l'invenzione chiamiamo così, dopodiché per la parte produzione mi affido anche a delle sartorie sociali. Perfetto, design, ideazione e progettazione di quelli che io, così senza capirci niente direi sono dei costumi lavagno appunto. E invece? E invece sì, sono costumi da bagno, sono costumi da bagno ma sono costumi da bagno fatti appositamente per le persone che come me vivono grazie a una sacca attaccata all'addome. Ah. Per cui, per carità, non ci sono problemi dal punto di vista dell'attività, chiamiamo così, del bagno piuttosto che di altre attività sportive. Il problema è che bisogna anche governare questa sacca che si riempie in continuazione. E quindi tu cosa hai inventato? Ho inventato un marchigegno che fa sì che dovunque io sia posso svuotarla, cambiarla senza dovere diventare pazza o cercare un bagno pulito, serializzato in cui posso fare quello che è l'attività quotidiana di una persona con la sacca e quella di pulirla, svuotarla in continuazione. E tu questa invenzione l'hai applicata ad esempio a dei costumi da bagno? Io l'ho applicata a dei costumi da bagno ma l'ho applicata anche a degli indumenti intimi e ho anche inventato degli accessori che ci permettono di facilitarci anche queste operazioni di cambio, di svuotamento. E so che hai dei modelli e dei beta tester, li chiameremo, d'eccellenza, no? Tu hai dato i tuoi capi proprio a chi questo problema lo vive giornalmente, come anche dicevi, anche tu hai questo problema e per studiare la soluzione migliore. Esatto, no, siccome io non faccio né fast fashion le cose che si vendono così, ma faccio delle cose che hanno come obiettivo principale quello di facilitarci la vita. Cioè la disabilità di per sé non è un'inabilità, però ci sono anche delle circostanze nel mondo, nella vita attiva che fanno sì che un problema piccolo diventa un problema grosso. Chiaro. E non entro nei dettagli. Quello che io faccio è quello di permettere alle persone di governare facilmente questo piccolo aggiunta nel nostro corpo. Mi vede a dire che anche nel tuo caso non è un caso che troviamo la tua storia all'interno di una storia come quella di Rimaflo. Assolutamente no, assolutamente no, perché Rimaflo è una storia anche di seconda vita, di second chance, di progetti, di progettualità, per cui io ho seguito tutta la storia di Rimaflo prima e quando siamo arrivati qua ho voluto essere, condividere storie diverse, ma comunque con un filo conduttore unico. Chiarissimo, allora adesso io continuo la mia ricerca di Gigi che l'ho perso nei meandri dell'azienda, ma faccio i complimenti davvero alla tua idea e al tuo progetto che insomma credo che semplificherà la vita a tante tante persone. Speriamo, grazie mille, grazie, io ci provo, grazie. Io sto girando qui attraverso gli uffici dell'azienda che adesso sono anche qui di botteghe di alcuni mestieri cercando appunto Gigi che non riesco a trovarlo, però mi hanno detto che qui in fondo c'è un'altra bottega molto interessante che anche qui fa del lavoro artigianale e di un certo livello io vedo delle stoffe, delle stoffe molto interessanti e vedo qui vele dei bernocchi. Allora vedi, vieni pure qui che così non siamo in controluce, poi un bellissimo albero di borse vedo qua. Sì, io lavoro con la canapa, faccio queste collezioni di borse e le ricamo. e unisco due modi di ricamare, uno a macchina e uno a mano tradizionale e queste sono le mie creazioni. Come sei finita qui in questa gabbia di matti che è rimaflo? Ormai dopo aver fatto un giro ho capito che insomma non è che siamo proprio tutti le rotelle a posto. No, no, infatti chi viene qui non può avere le rotelle a posto, però è un posto meraviglioso perché si lavora tutti insieme, ad esempio vi faccio un piccolo esempio per capire. Io ho bisogno a volte delle tracolle o degli inserti in pelle, scendo le scale, vado da Donato e Donato me le fa in un attimo, quindi chilometro zero, si scambiano le opinioni, si lavora veramente insieme. Io penso che in team si lavori in un modo eccezionale e quindi questo è un posto meraviglioso per questo. Allora io ti ringrazio tantissimo davvero per averci aperto le porte della tua piccola bottega che so che però poi mi è giunto a voce, state allestendo anche uno showroom all'interno. Assolutamente sì perché è giunto il momento di farci conoscere, qui ci sono un sacco di talenti, un sacco di artisti, l'artigianato è un altro artigianato italiano e quindi è giusto che tutti insieme noi possiamo mostrare quello che si fa qui in Rimaflo, tutti insieme. grazie mille davvero e mi sa che a me sta venendo in mente dove possiamo trovare Gigi, adesso andiamo a vedere perché secondo me lo troviamo proprio lì, andiamo. Eccolo lì Gigi, eccolo dov'è, hai capito? Sapevo di trovarlo qui perché come tutte le aziende che si rispettano c'è anche una messa interna e infatti adesso Gigi chiudiamo allora qui non voglio disturbarti oltre, ecco perché ti ho perso durante il giro. Alla una si mangia quindi per forza, anzi siete invitati a questa messa straordinaria perché la qualità del cibo qua è buona nel senso che è proprio parte della nostra filiera. Le uova sappiamo dove andarle a prendere, una parte delle verdure le produciamo nell'orto con donato e quindi non sono ancora questi pomodori ma arriveranno anche i pomodori e quindi una parte della cucina viene alimentata dalla nostra stessa. Ma metri zero, non chilometri zero. Metro zero, no? Gigi allora ti ringrazio davvero, è stato bello quando sei venuto in studio, è stato ancora più bello venire qui e scoprire la vostra realtà dal vivo e devo dire che questa immagine con tutti questi lavoratori intorno a noi è veramente un'immagine di speranza. Io ti ringrazio e ringrazio a tutti voi per quello che avete fatto. E grazie anche alla WebTV perché questo ci dà l'occasione di far conoscere questa esperienza a tutto il territorio. Miai carissimi milanesi, questo è quello che ci piace di Milano, questo è quello che ci piace della nostra città, questo è quello che mi piace mangiare quindi io vi saluto perché accetto volentieri l'invito di Rimafolo a fermarvi qui nella loro mensa. Miai carissimi milanesi, grazie mille di averci seguito, noi ci rivediamo presto, grazie mille, arrivederci, a presto. Grazie mille.